Io avevo chiarissima l'esigenza dell'assoluta necessità di cambiare la giustizia civile penale e quindi mi dedicai personalmente insieme al Ministro della Giustizia, ma prendendo in mano io la regia di tutto, alla stesura di un disegno di legge su sia la giustizia civile che ha dei tempi che conosciamo, ho visto ancora qualche giorno fa i diversi tempi in Europa, noi per farci pagare come imprese una fattura certa dobbiamo aspettare in media 1000-1200 giorni, negli altri paesi 180 giorni. Quindi succede che l'esigenza era forte, abbiamo a un certo punto stabilita e passata la legge obiettivo con cui peraltro abbiamo dato via 57 miliardi di opere, molte delle quali sono state già realizzate, tra queste ci metto anche a nostro orgoglio l'alta velocità, l'altro giorno sono venuto da Milano a Roma in 2 ore e 41 minuti, quindi credo che sia stata una cosa importante per il paese.